Buongiorno a tutti, il mio nome è Jeliz Ruiz Romero, lavoro per l'azienda Sessial Global. All'interno mi occupo di pubblica relazione, sono una business manager. La nostra sede si trova in Corso Garival di 183, Gattinara, provincia di Vercelli, però ci spostiamo in tutta la regione d'Italia per la medicina del lavoro. Abbiamo fatto collaborazioni all'estero con Istanbul e Macedonia, in questo caso per la medicina e chirurgia estetica. I nostri servizi offriamo un servizio su misura e completo affiancato ai professionisti che possono risolvere qualsiasi tipo di problema all'avenienza. Dove, come possiamo fare? Semplicemente vai sul sito www.sessialglobal.it e lì troverai tutte le informazioni. A seguito del background della mia nascita, la mia cultura e l'educazione molto carente mi ha portato a cambiare di vita. Ho sempre avuto voglia di vivere bene, di fare il famoso salto di qualità. Di conseguenza emigro in Italia e mi metto a lavorare e faccio diversi tipi di lavori. Lavoro negli alberghi come pulizia e faccio lavarrista e consulente energetico e miglioro. porto i miei figli qua con me, come tutti i genitori che vogliono i figli accanto. Li faccio studiare. La femmina ha fatto 5 anni di odotria e il maschio ha trovato una bella ragazza e poi si sono messi insieme, ha trovato lavoro e così diciamo che ha preso la sua strada. E in tutto questo tempo io mi sono dimenticata di me. Sì, quindi avendo questo background precario, vivendo una vita stressante, purtroppo che non mi piacevo neanche, ho toccato il fondo, ho cominciato. Il mio stato di animo, la mia psicologia, piano piano cominciano a deteriorarsi e questo mi comporta a creare una dipendenza dall'alcol che mi fa perdere la famiglia, amici, lavoro, casa, tutto. La cosa che mi ha fatto più male è stata perdere mia figlia. Non lo desidero a nessun genitore. Ho fatto tanto per portarla qua e stare insieme a me e alla fine niente, mi ha abbandonato come è giusto che sia. È tutto colpa dell'alcol. È un punto di vista anche fisico, perché comincio a aumentare di peso, anche se sono alta un metro e al 185 sono arrivata a pesare 150 kg. È una cosa orribile. Per la mia salute anche perché ho cominciato anche a peggiorare. Ero sola, triste, depresa, totalmente negativa, alcolizzata al cento per cento. Io dopo, sempre con la mia volontà e con la voglia di vivere, ho trovato al dottor Carraro. È lì il mio mondo cambiò. Sì, lui mi mette in mano al suo team di professionisti e così comincia il mio percorso di trasformazione fisico, psichico e anche comportamentalmente. E con l'aiuto tecnico del gruppo Sessia Global oggi sono questa. peso 75 kg, non bevo più. Sono una donna molto molto felice. E se ieri, ieri mi ubriagavo per dimenticare, oggi il mio futuro lo vedo diversamente. la mia vita non mi piaceva, mangiavo schifesa, ce l'avevo con tutti. Cerchiamo sempre un motivo per veri. Oggi faccio tutto il contrario, tutto il contrario. mi ubriago di felicità, d'amore, di gioia. Voglio guadagiarmi tutto. perché me lo merito, me lo merito. Se che non sarà facile, o qualcuno dice, è facile parlare. io di sicuro dico di no. Non è facile, non è facile proprio per quello che nessuno lo fa. Io ho bisogno di entrare veramente dentro delle persone malate. Perché essere alcolizzata è una malattia. E dobbiamo renderci conto che sei malato e che devi accettarlo che hai bisogno di aiuto. e devi farti aiutare. Se vuoi, puoi. Deve cominciare tutto da te. La gente cambia. Le persone cambiano. Io sono la prova. Se tu vuoi, puoi. Fidati. Grazie. Wow. Grazie. 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 Grazie.